Una vicenda sta facendo tremare il mondo dello spettacolo, un triangolo amoroso, messaggi infuocati e parole pesanti che vede protagonisti Belen Rodriguez, Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino. Non perdete nemmeno un dettaglio di questa storia ricca di colpi di scena. E non dimenticate, lasciate un like e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona, sembra che Belen Rodriguez abbia perso la pazienza, lanciando accuse e insulti contro Antonella Fiordelisi. Ma cosa sta realmente accadendo dietro le quinte? La tensione è salita alle stelle quando Belen ha scoperto un vecchio post su Instagram che metteva in discussione la relazione tra Antonella e Stefano. Incredibilmente, Belen ha tagliato i ponti con Antonella e ha iniziato a inviarle messaggi furiosi. Nel frattempo, Antonella era a Londra, ignara di tutto e felice con il suo nuovo amore. Fonti vicine affermano che i messaggi di Belen fossero confusi e carichi di rabbia. Un dettaglio importante emerge, la storia tra Antonella e Stefano sembra risalire a un periodo in cui entrambi erano single, quindi nessun tradimento. Tuttavia, Alessandro Rossica ha una visione differente della vicenda. Cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Aggiungiamo un altro pezzo a questo puzzle, l'amicizia tra Antonella e un altro ex di Belen, Antonio Spinalbese. Sembra che i due abbiano avuto un breve ma intenso incontro. Questo potrebbe aver acceso ulteriormente la rabbia di Belen. Antonella, d'altra parte, sembra aver trovato stabilità con il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario. La situazione però si complica ulteriormente. Antonella ha deciso di rispondere legalmente alle accuse di Belen, negando qualsiasi coinvolgimento con uomini impegnati. Cosa ne pensate di queste dinamiche tra ex e nuove fiamme? È giusto che queste questioni personali vengano portate all'attenzione pubblica? La vostra opinione è importante per noi, quindi lasciate un commento qui sotto. E non dimenticate di lasciare un like se questa storia vi ha intrigato. Ricordate di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento sulle ultime vicende del mondo dello spettacolo. In conclusione, questa intricata vicenda tra Belen Rodriguez e Antonella Fiordelisi ci mostra quanto possa essere complesso e imprevedibile il mondo del gossip. Rimanete con noi per seguire gli sviluppi di questa storia appassionante. E ora, a voi la parola, chi pensate abbia ragione in questa storia? Scrivetelo nei commenti e condividete il video sui vostri social. Grazie per averci seguito.